Non solo l'hanno travolta in retromarcia a un'ara di tombolo con una manovra azzardata, ma l'hanno anche lasciata da sola, senza soccorsi, e lei, Antonella Munaro, 54enne, in carrozzina da quando ne aveva 22, si è dovuta arrangiare. Non riusciva a scendere velocemente dalla sua auto a causa della disabilità, e l'investitore se n'è andato, disinteressandosi del tutto della salute di chi aveva investito. Raggiunta da sola all'ospedale di Camposampiero, per Antonella la prognosi è di una costola fratturata.